insalata oh grazie Tubs non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti credo che uno spazzolino aiuterebbe mi domando come si usa uno spazzolino per lavare i denti? che idea geniale possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti mi serviranno delle ali ali confermate e ora andiamo a esplorare attivare la stazione di Blippi la Blippi mobile è pronta per l'avventura è ora di farsi piccoli e entrare in una bocca miniaturizzazione siamo all'interno della bocca hai ragione Tubs ci serve un modo per pulire questi denti uno spazzolino aiuterebbe? ciao sono Lino spazzolino e tu chi sei? ciao io sono Blippi e lui è Tubs voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti bene direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene sì ci sto ehi Lino spazzolino è dentifricio quello sulle setole? sì signore aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo allora vi mostro come si procede iniziamo prima con il lato frontale facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente bene qui abbiamo finito ora passiamo al lato interno ci giriamo ci ribaltiamo cerchi piccoli piccoli intorno al dente sì bene facciamo altri cerchi 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 questi denti sono i molari i masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro è vero Tubs lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata evviva credo di avere la risposta alla mia domanda come si usa uno spazzolino per lavare i denti? si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo con tanti piccoli movimenti circolari così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti carica la risposta Tubs spero di esservi stato di aiuto fazzolate i denti due volte al giorno per due minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti lo faremo grazie per averci fatto vedere come si fa ciao ciao che bella quell'ape sembra molto indaffarata e anche quell'altra e anche quella laggiù sono tutte indaffarate beh, tranne quella là quelle api sono impegnate a fare il miele mi domando come fanno le api a fare il miele? sì, potremmo entrare in quell'alveare mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore ali, braccio e scavatore confermati attivare la stazione di Blippi la Blippi mobile è pronta per l'avventura ora, dobbiamo soltanto diventare come un'ape cioè, più piccoli miniaturizzazione hai ragione, Tabs la lingua dell'ape è nel fiore ciao io sono Blippi e lui è Tabs mi domandavo come fate a fare il miele? ciao, io sono Bacciafiori il miele è il detto siete proprio nel posto giusto allora sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare è così che noi api iniziamo a fare il miele bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare seguitemi attenzione, c'è un po' di movimento è come una fabbrica di miele Bacciafiori ma stanno tutte masticando nettari certo lo mastichiamo è ciò che noi facciamo in questo modo diventa più denso è normale, non fa senso ho fatto un'altra rima e dopo averlo masticato poi diventa miele no no, c'è molto da mostrare mastichiamo e poi ingoiamo il nettare rimane nella nostra pancia diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo nelle celle del favo? sì, è dove noi conserviamo il miele oh, ed è possibile assaggiarne un po' oh cielo potrebbe sembrare strano ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso è un'apitudine bello sì, Tubs ora ho la risposta alla mia domanda come fanno le api a fare il miele? succhiano il nettare dai fiori lo masticano lo conservano nello stomaco mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria carica la risposta, Tubs ciao baciafior grazie per l'ape ritivo ciao sì sì fa veramente caldo oggi ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano mi domando perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? come hai detto, Tubs entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto questa è un'idea geniale mi serviranno le ali il braccio escavatore e le zampe da papera ali, braccio escavatore zampe da papera confermati attivare la stazione di Blippi la Blippi mobile è pronta per l'avventura andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano miniaturizzazione sono nel furgoncino dei gelati ciao amici benvenuti sono mora gelata il ghiacciolo lieta di conoscervi ciao mora gelata io sono Blippi mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano ti posso rispondere io ma prima un po' di fresco divertimento oh sì ci sto oh bordo sul gelato scivolo sugli zutterini e snorkeling nel cioccolato fondente mora gelata tu ti stai sciogliendo sì mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo ma me raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo che bel gelo come va lì dentro adesso? fa freddo freddissimo adesso sono a posto wow deve fare proprio freddo lì dentro vero? in effetti lo è perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me la mia temperatura ideale è 32 gradi fahrenheit ovvero 0 gradi celsius finché rimarrò a questa temperatura non mi scioglierò mai buono a sapersi è quello che è successo prima col mio ghiacciolo quando era fuori dal freezer al caldo nella blipi mobile mi si è sciolto in mano forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci hai ragione vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? è perché i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo ecco perché li teniamo nel freezer carica la risposta taps mora gelata grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio a presto blipi ciao ciao wow rimbalziamo sulle dune di sabbia e ancora e ancora wow che castello fantastico onda in arrivo oh no sembra che quel castello non fosse adatto a un'onda del genere mi domando posso costruire un castello di sabbia che non venga portato via? sì hai ragione taps non c'è che un solo modo per scoprirlo devo costruire un mio castello di sabbia mi serviranno il braccio dell'escavatore e le zampe di ragno braccio escavatore zampe di ragno confermati attivare la stazione di blipi la blipi mobile è pronta per l'avventura costruiamo un castello di sabbia che non venga portato via quindi dobbiamo diventare delle dimensioni giuste per poterlo fare miniaturizzazione senti che bella brizza di mare taps wow ehi la ciao io sono chela il granchio piacere di conoscerti oh cielo non mi rendo conto della mia forza ciao chela io sono blipi e questa è la mia blipi mobile la adoro allora sei venuto a fare un bel giro in realtà chela sono qui per scoprire se so costruire un castello di sabbia che non venga portato via dall'acqua sei venuto dal granchio giusto io sono un architetto uno scavatore e un costruttore posso aiutarti io blipi grazie allora la prima cosa che bisogna fare è scavare un fossato che è un modo elegante per dire buca ti spiego l'acqua va dentro la buca e così evitiamo che spazi via il castello che c'è in mezzo quindi ora scaviamo scava 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 wow wow che buca adesso costruiamo un castello di sabbia hai ragione tabs ci servirà una pala finito guardate qua hai già finito chela e il nostro fossato è perfetto il fossato è la buca che abbiamo scavato tutto intorno al castello di sabbia ma è grandioso è il miglior castello di sempre onda in arrivo il fossato funziona che è la vale a dire che credo di avere la risposta alla mia domanda posso costruire un castello di sabbia che non venga distrutto? sì che posso scavando un fossato tutto intorno che raccolga l'acqua carica la risposta tabs grazie chela ciao ciao e continuo a scavare ehi è un camion dell'immondizia sì l'ho riconosciuto anche dall'odore wow tabs anche tu lo trovi puzzolente e tu sei un robot aspetta che cos'è questo ronzio? da dove arriva? Oh, delle mosche! Ehi, quelle mosche sono appena entrate nel camion dell'immondizia! Mi domando, perché alle mosche piace l'immondizia? Idea geniale, Tubbs! Possiamo entrare nel camion dell'immondizia per scoprire la risposta! Mi serviranno delle ali! Ali confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché le mosche adorano l'immondizia! Miniaturizzazione! Trattieni il respiro, Tubbs! Stiamo per entrare! Sono nel camion dell'immondizia! Benvenuti! Io sono Razio, la mosca! Sembra sia la vostra prima volta qui, giusto? Ciao, Razio! Io sono Blippi! Questa è la mia prima visita a un camion dell'immondizia! Un po' puzzolente, eh? Non per me! Io adoro la puzza! Seguimi! Facciamo un giro! Questo posto è il mio parco giochi! Oh, scivola, scivola! Ups, scusatemi! Ehi, Orazio, perché alle mosche piace l'immondizia? Perché è deliziosa e l'immondizia mi fa volare! Abbiamo fagioli puzzolenti, formaggio ammorbito, cartoni della pizza unti e persino poltiglie di avanzi misteriosi! Ups, scusate, colpa dei fagioli? Se vuoi, posso darti un passaggio al volo fino a un giardino o dove vuoi tu? Orazio? Dove sei finito? C'è di tutto qui! Nell'immondizia! Oh, questa è torta? Oh, no, non era torta! Buona comunque! Mi va bene qualsiasi cosa e mangio qualsiasi cosa! Orazio ha più energie adesso! Ahah! Ora credo di avere la risposta al perché le mosche adorano l'immondizia! È perché mi adorano l'odore e lì ci trovano del cibo! I gusti sono gusti! Carica la risposta, Taps! Sì, signor Blippi! Per me un camion dell'immondizia è come... un ristorante a buffet aperto notte e giorno! Oh! Vai Orazio! Grazie! Ciao! Blippi! Hi! Bayern! La pioggia smetterà presto, Taps! Grande! Ho appena finito di colorare il mio disegno! Riesci a indovinare cos'è? Bravo Tubbs! È proprio così! È un pinguino con in mano una tazza di tè mentre pattina nella giungla con tanti bei colori! Wow! Un arcobaleno! Ha tanti bei colori anche lui! Mi domando come fa un arcobaleno ad avere quei colori? Idea geniale Tubbs! Possiamo volare, chiederlo all'arcobaleno e scoprirlo ma prima mi serviranno delle ali! Ali confermate! E andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come fa un arcobaleno ad avere quei colori! Ragazzi e ragazze, attenzione prego! Il grande cielo blu è fiero di presentarvi il più grande influencer della natura! Io sono Archetto l'arcobaleno! Wow! Ciao! Io sono Blippi! Sono un tuo grande fan, Archetto! Conosco tutti i tuoi colori! Grazie, grazie, grazie! Sono molto fiero dei miei colori! Lascia che te li mostri uno ad uno, d'accordo? Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto! I miei complimenti, Blippi! Ehi sai, oggi è un grande giorno! Stiamo per trasmettere uno stravigliante doppio arcobaleno! Oh, devi far parte della mia diretta! Davvero? Sarei molto onorato, però non so come ottenere questi colori! Tu puoi mostrarmelo? Ma certo, mio super fan Blippi! Prima cosa, guarda questa bella nuvola chiamata Cumulo Nembo! Oh, sembra abbia appena piovuto, quindi è perfetto! Vuol dire che ci sono tante goccioline d'acqua nell'aria! Wow! In questa nuvola ci sono tante piccolissime gocce d'acqua! Hashtag vero! Adesso, il prossimo passo! Posiziona la nuvola in modo che la luce del sole passi attraverso le goccioline d'acqua! Ecco così! Ora, quando la luce attraversa l'acqua, si piega o si rifrange e si separa in tutti i diversi colori dell'arcobaleno! Voilà! Ma è fantastico! E credo di avere la risposta alla mia domanda! Come fa un arcobaleno ad avere tutti quei diversi colori? È perché... Quando la luce del sole attraversa l'acqua, la luce si rifrange e si divide formando tutti i vari colori dell'arcobaleno! Carica la risposta, Tabs! E cinque, sei, sette e otto! Wow! Non dimenticare di seguirmi e mettermi like, d'accordo? Arrivederci! Ci si vede! Flippi!